La brava Greta Thunberg è stata nominata come la persona dell'anno della rivista Time di tutto il 2019, che si sta accingendo a terminare. Il Time dunque saluta l'anno in questione, il 2019, incoronando proprio come persona dell'anno Greta Thunberg, in una foto che mostra Greta in piedi su di uno scoglio battuto dalle onde che si possono appressare. La ragazzina è riuscita a trasformare le ansie pache sul futuro del pianeta in un movimento mondiale che chiede un cambiamento di tipo globale. Il Time in altri momenti ha scelto i più alti funzionali dello Stato, che hanno testimoniato a Capitol Hill nelle audizioni per l'impeachment di Donald Trump come guardiani dell'anno. Vi ringrazio per la visione di questo video di oggi, vi ringrazio per l'ascolto, cari utenti di YouTube, iscrivetevi se vi va, mi raccomando, commentate, datevi le vostre opinioni. Un cordiale salutone a voi, da Leandro, narrato italiano.